Oggi l'amministrazione comunale ha organizzato questo incontro con le associazioni di categorie proprio in previsione di quella che è la donata degli alpini del 2014. È stato un momento importante di condivisione ma soprattutto di stimolo per quelle che sono le opportunità che la donata offre per la città di Pordenone, opportunità che non vanno perse ma che si deve preparare per tempo per promuovere la città. Credo che questo è un momento importante che tutti i soggetti economici che agiscono insieme all'amministrazione comunale e a quant'altri anche le varie associazioni culturali debbano concorrere per quella che è l'accoglienza degli alpini in città. Assieme al presidente Gasparet, presidente della sezione della provincia di Pordenone, c'era il dottor Bodria il quale ha illustrato tutte quelle che sono le iniziative in corso per quanto riguarda gli aspetti organizzativi ma non solo, soprattutto per quanto concerni gli aspetti di carattere di marketing della città. Questo, ripeto, è un momento importante dove tutti quanti devono concorrere per far sì che l'accoglienza in città sia la migliore possibile ma soprattutto che possa coinvolgere tutta la cittadinanza. È un grande momento di festa e in questo l'amministrazione comunale è in primis per promuovere ovviamente un'iniziativa e il massimo coinvolgimento da parte di tutti.